La promessa è quella del Green Pass, il certificato verde di avvenuta vaccinazione, e invece è soltanto una truffa con la quale i criminali del web cercano di rubare i nostri dati e le nostre credenziali. Si tratta soltanto dell'ultima frode in ordine di tempo segnalata dal commissariato di PS Online, eppure particolarmente insidiosa perché strettamente legata all'attualità. Dal proprio ufficio la dirigente del compartimento della Polizia Postale di Napoli, Maria Rosaria Romano, lancia l'allarme, è necessario alzare il livello di guardia, tutti ci possono cascare. Il commissariato di PS Online ha ricevuto diverse segnalazioni di utenti che hanno ricevuto dei messaggi con cui si chiedeva di inserire dei dati riferibili a conti correnti. Ovviamente il cittadino è entrato in confusione, quindi è necessario effettuare degli accertamenti. E poi le truffe tipiche del periodo estivo, la vendita di finti pacchetti vacanza, di soggiorni in residence inesistenti, senza dimenticare lo smishing, una forma sofisticata di phishing. tramite sms veniamo invitati a inserire le nostre password e i nostri dati bancari su un sito del tutto simile a quello del nostro istituto di credito. Insomma, la prudenza non è mai troppa. Abbiamo un aumento importante dei fenomeni e un contrasto che abbina attraverso una sinergia con le locali procure, procure distrettuali e compartimenti di tutta Italia.